Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di What The End No Shop Arriviamo a 500 like, condividete il video, iscrivetevi al canale e se è nuovi Lasciate il hashtag What The End No Shop qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino E noi andiamo avanti con la nostra puntata E non scordatevi di passare da What The End Italia su Facebook ragazzi Allora, allora, andiamoci a prendere immediatamente la povertà ragazzi Perché quest'account è povervello Anche se adesso ha 565 gem che mi tirrò da parte per quando arriva un'altra promozione Per la leggendaria ragazzi Ok, vai, abbiamoci questa bella cassa comune Una gingerina che non ce ne frega niente 50 monetini che ci piacciono tanto, vai così, molto gentile E una bella gemmina gratis, così so 10 Poi andiamo a vedere se abbiamo qualcos'altro da fare Abbiamo questo che potremmo potenziarlo sinceramente Furia Battagliera che è quella lì che ci dà il potenziamento, quindi vai Potenziamento e siamo forti Potrei anche ripotenziarla ma non ho 2000 monete Perché non ho trovato veramente tante dentro la cassa Quindi abbiamo questa furia battagliera che è oltre il livello del normale Allora, vado a prendermi anche il promocode del ciccio gamer Che non mi era ancora preso su quest'account Non mi ricordo più com'era, era Babbi, babbia, bia 89 perché gliel'avano fatto sbagliato Quindi grazie, molto gentile 350 spinoso che qua potrebbero servire a qualche cosa 100 monetine e 10 gemme in più in confronto a quelle gratis della giornata Grazie ciccio Visto che l'altra volta abbiamo fatto le campagne Oggi andiamo a fare le arene ragazzi Così saliamo un pochino E si va aggressive Vediamo fino a dove riusciamo a arrivare con questo mazzo Allora Vediamo un po', potrei mettere immediatamente ciccio chef Il coniglietto lo mettiamo dopo Ok, potenziamoci tutti adesso con la furia battagliera nuova Che dovrebbe essere più potente C'è Kina mi ha fatto fuori tutto Io ho pure la rossa da mettere giù Quindi sarà molto divertente la faccenda Vai, addio E sono riuscito già anche a salire di livello Quindi altre 20 gemmine per noi E 50 di cuori E siamo contro Gegé Ciao Gegé Ti mando un saluto Ok Allora vediamo un po' che possiamo inventarci qua Allora ciccio chef Messo gioco log Così facciamo una bella pulizia subito subito Lui giustamente per rompermi le scatole Deve immediatamente mettere la cecchina Perché se no non è contento Gliela leviamo e abbiamo già fatto pulizia completa E adesso mando la rossa dietro al log a dargli una mano Vai rossa Vai rossa Devasta tutto quello che evoca Così Mi piaci Cattiva e aggressiva E siamo contro top 609 Che bei nomi che ci avete Delle volte la fantasia vi manca proprio Eh raga Allora andiamo così belli cattivi Direi di aspettare un po' prima di mettere la furia Perché voglio fare Ecco appunto A parte questo Che giustamente deve rompere scatole Quindi facciamo una bella pulizia E poi facciamo un potenziamento così Che la rossa corre e devasta tutto quello che trova sulla sua strada Boom Vince di rossa E si continua Siamo contro cacper Mamma mia che bei nomi Sempre più belli si trovano Allora Aviamo un po' Ciccio chef Speriamo che non c'è cecchina Almeno questo C'hanno tutti cecchina ormai Ok non ha la cecchina Io posso evocare anche un po' di rossa E dare una zampa di quelle grosse Guardate la rossa che corre La rossa devasta La rossa uccide Ok ha fatto una enorme pulizia Vai Facciamo così Gli eleviamo flori chiappa Sciottone diretto E si va aggressivi contro i nostri avversari Ok Va pure lui di ciccio chef Peccato che tu non hai messo la furia La furia è in porciance Allora vai così Potenziamoli entrambi Guardate come corrono aggressivi La rossa La rossa gli va presso Lo dovevo potenziare un po' prima Però guardate Va dalla cecchina Gli tira due ascettate E abbiamo vinto molto tranquillamente No Tira due ascettare pure ciccio chef Poverino Allora abbiamo trovato un fan di ciccio gamer 89 Che si chiama ciccio gamer 89 Ma non è lui Perché quello normale si chiama ciccio gamer E basta Ok Quindi già ti abbiamo sgamato Poi ciccio gamer non mette il suo cagnolino Quindi Me dispiando Non è lui Ok La rossa sembra riuscire ad attaccare ancora Wow Ha resistito Abbiamo vinto di rossa di nuovo Lo tizio si chiama gameize E c'ha l'hog anche lui Quindi potrebbe essere Un gran problema Vediamo un po' se riusciamo comunque a tenerlo fermo Avvelena il maledetto Quindi abbiamo grossi problemi a questo punto Possiamo anche dire Ok Potrei andare di rossa Per cercare di velocizzare Un uccisione di hog E ci siamo riusciti Ok Ho rotto il luzzi Prima che mi sparava Alla rossa La rossa è rallentata Ma continua ad attaccare pesantemente Ammazza goblin Ammazza Manny la talpa E sta tenendo tutto pulito E sta facendo avanzare hog Senza problemi Sinceramente Un altro fan di ciccio Che si chiama paguro federic Che c'ha sia il coniglietto Che il maledetto Muzzi Cuore infranto Perfetto Quindi stiamo molto messi male Allora Vediamo un po' che possiamo combinare Vai Divassalo prima che Ok No Hog è già morto Ok Ciccio chef è stato ucciso male E mo ci muore pure La rossa Diamo un tantinello Inguagliati Ok Ci muore pure la coniglietta La Lauren È un bel problema Grazie a paguro federic Mi hai dato la prima sconfitta di oggi Ok Siamo contro Un tizio che si chiama retro Ok Che c'ha un'immagine anche al contrario Sinceramente Potevi metterla almeno alla dritta Almeno capivamo che era Non mi va di leggere al contrario Allora vai così Potenziamo Non si è potenziato log Perché forse non era nel raggio Ma mi sembra strano Mi sembra che ero nel raggio No Oh Si è salvata la rossa La rossa avanza La rossa ammazzò Hog Ok Ammazza pure la verde E uccide retro diretto E siamo contro Alfo02 Un altro fan di Ciccio Se sei italiano Giustamente lo sei Avvenendo la skin Mandami un bel commento qua sotto Che ti lascia un cuoricaino Allora vediamo un po' Potenziamo il tutto Ok Dovremmo esserci di cattiveria Vai Devasto Abbiamo invertito il suo smith La rossa passa Inosservata Distrugge il suo pallocchio La E andiamo a fare la kill finale Grazie No c'è la cecchina Dai un colpetto Basta Uno Perfetto Ciao Alfo Ok questo potrebbe essere un problema Perché ho visto che c'ha il granchias Potrebbe essere un problema Non ho detto che è un problema Quindi Vediamo un po' Se riusciamo a batterli lo stesso Allora diamogli un potenziamento A tutti e due Og e il signor cicciochef Per favore fate un lavoro pulito Ok Questi sono un problema Infatti adesso morirà sicuramente la rossa Infatti è morta la rossa Però cicciochef Sì cicciochef Granchias dovrebbe morire adesso Vediamo un po' Perfetto Morto Aia Palla di fuoco sulla testa Ma io ho già tanta roba sul terreno Quindi non mi batterai più Mi dispiace Palla di fuoco No pensavo che evocavi qualcosa Sì l'hai evocato Ma era un arkinson E siamo contro Hugo Ciao Hugo Benvenuto tra di noi Hugo Allora io ho un po' Tu vai di smith E di cicciochef Io vado di hog E di cicciochef Sto cicciochef È diventato talmente potente Che lo usano tutti Ok Abbiamo capito anche questa cosina Allora vai Evochiamo qualcos'altro immediatamente Ok C'è morta la rossa Giustamente perché c'ha la curatrice Dall'altra parte Per fortuna non pollizza Se non erro a quei livelli Iper laggatona Gigante Bloccone Ok Ti va avanti con l'hog Sbam Malamente E boom Si tira un colpetto Il nostro bellissimo cicciochef Non viene toccato minimamente Perché è a distanza Ok non ha velena Non ha velena E quindi stiamo messi abbastanza bene Su questa cosa Abbiamo potenziato tutto Con la nostra bellissima furia E si va avanti i cattivi Ciao E ora siamo contro Union City Questa è l'ultima partita di oggi ragazzi Stiamo spingendo alla grande Anche con l'account no shop Posso arrivare molto in alto E questo l'abbiamo capito Molto fa Molto tempo fa Ok Passano i jet Mentre combatto Non so se lo sentite Ok A posto così Abbiamo pulito già tutto il terreno Ci stanno solo i goblin Che rompono le scatole Che neanche avvelenano E la rossa va lì E tira la sua scettata Vittoria facile Ok ragazzi Siamo tra i primi quattro Sicuramente nel prossimo episodio Dove faremo arene Saremo nella prossima lega Molto tranquillamente ragazzi Perché mancano tre partite Soltanto per arrivarci È andata molto bene Stiamo andando velocissimi La rossa è stato un ottimo acquisto Spero che arriva un'altra bella cassa Che costa 500 gem Che ci dà un'altra bella leggendaria Così ci dà un'altra piccola botta Per andare avanti Sperando una bella Lizbeth Che all'inizio è veramente buona E arriviamo a 500 like Condividete il video Iscrivetevi al canale Se siete nuovi Lasciate un hashtag WhatTheNanoShop Qui sotto nei commenti Per ricevere un cuoricino E ci vediamo Alla prossima puntata Alla prossima puntata